Sono invece una delle possibilità del futuro per usare in modo intelligente e congruo proprio l'intelligenza artificiale, quindi è importantissimo come suggerimento quello che il professor Rasetti ci ha appena detto sull'uso malevolo di una componente come quella dei bot, ma è importantissimo, ed è questo il messaggio che vorremmo che passasse da questa manifestazione, questo percorso di consapevolezza. Il percorso di consapevolezza passa attraverso l'educazione. Verde Kercove ha parlato del modello sociale, Piero Dominici ci parlerà, che è un altro sociologo, e che però si occupa di complessità e si occupa soprattutto di questo aspetto dell'educazione. Perché? Perché è un altro aspetto fondamentale per prendere coscienza, per acquisire consapevolezza, che è poi la chiave di volta. Solo questo ci permetterà di costruire questo nuovo modello sociale. Intanto grazie per l'invito. Devo dire che sono in una situazione, in un certo senso, favorevole perché? Perché dopo questi interventi, come dire, grosso del compito, quasi me l'hanno eliminato. Da un altro punto di vista, abbastanza svantaggiosa, perché è altro che sulle spalle dei giganti. Però vorrei provare a, come dire, con voi a condividere delle chiavi di lettura, che forse, non lo so, rispetto agli interventi degli amici che mi seguiranno, magari possano avere anche, in qualche modo, diciamo così, l'ambizione di, ciao Mario, a presto, di tenere insieme le relazioni che ci sono state. Allora, proverò a procedere per punti. Non ho preparato una presentazione, quindi non potrò sollecitare la vostra, anche, memoria visiva. Sono drammaticamente legato al cartaceo, come potete vedere. E tra l'altro, siccome sono abituato che quando vai in queste conferenze, spesso, soprattutto quando arrivi dopo, sei costretto un po' a dialogare con chi ti ha preceduto, a mio avviso. Questo è un problema anche di cultura della comunicazione. Allora, sono tipo cinque volte che riscrivo quello che vorrei dire. Ma procedo, perché non so, tra l'altro, quanto tempo ho a disposizione. Quindi, 20 minuti. Quindi, perdonerete anche quelli che detesto. No, ecco, per Luca, già mi dicevi no. Non cominciare così, devi sempre andare con il no. Cercherò di essere più rapido e mi perdonerete per gli eventuali slogan che usciranno. Sono un qualcosa che detesto dal più profondo, ma chiaramente le tante questioni da trattare mi costringono un po' a andare con l'accetta. Allora, il primo punto che vorrei trattare con voi è questa idea, poi magari dirò qualcosa anche sulla questione della complessità. Cambio di paradigma. Quante volte abbiamo sentito parlare e discutere di questa questione, a mio avviso, fondamentale. Perché parliamo di cambio di paradigma? È soltanto appunto uno slogan? Beh, se ci riflettiamo, intelligenza artificiale, manipolazione genetica, big data, e chi più ne ha più ne metta, siamo davvero in un contesto, in una situazione tale per cui, se ci riflettiamo, mai come in questo momento, l'evoluzione culturale è in grado di determinare l'evoluzione biologica. Questo, a mio avviso, è un passaggio fondamentale. Non è soltanto una formula esemplificativa. Perché di fatto, per la prima volta, come dire, l'essere umano è in grado di stabilire, determinare la vita, la riproduzione. Siamo di fronte a cambiamenti, a una trasformazione di paradigmi con profonde implicazioni, anche epistemologiche, di metodo della coscienza, e, a mio avviso, pur essendo nell'epoca dei dati, nell'epoca della grande disponibilità delle tecnologie, dei dispositivi tecnologici, della capacità di elaborare informazioni, in realtà siamo molto deboli dal punto di vista del modello teorico, del sistema di pensiero, ma tranquilli, tanto riuscivo a procedere, ho degli addestramenti anche rispetto alle aule dove uno tante volte fa lezioni, che dicevo, di fatto ci trova estremamente deboli, ci trova, così, in una condizione di sostanziale inadeguatezza. E questo cambiamento di paradigma, a mio avviso, va collegato anche ad altri due requisiti importanti, pre-requisiti importanti su cui dobbiamo ragionare, anche per cercare di capire perché abbiamo l'esigenza di ripensare l'educazione e la formazione. Perché sono legati anche un po' a quelle che io chiamo le illusioni della civiltà ipertecnologica. Certamente, il primo punto, la prima questione è quella della razionalità limitata. La civiltà ipertecnologica e dei dati, concetto caro e proposto da un premio Nobel per l'economia, è una civiltà che ci restituisce appunto una serie di illusioni. Quali sono queste illusioni? Quelle del controllo totale, quelle della prevedibilità, quelle della protezione, quelle della sicurezza, quelle della replicabilità, che peraltro sono anche pre-requisiti scientifici. Una civiltà ipertecnologica che ci restituisce l'illusione, peraltro in cui paradossalmente, se ci fate caso, gli ultimi premi Nobel per l'economia sono tutti economisti che hanno valorizzato invece la dimensione sociale, umana, relazionale delle emozioni, in cui sostanzialmente torna forte l'idea della razionalità dell'homo economicus, che a mio avviso è stata fatta assolutamente a pezzi, che è la razionalità che si basa sull'idea, sulla convinzione profonda, ancora diffusa, che la disponibilità di informazioni, mai come in questa epoca, ci mette in condizione di prendere delle decisioni che sono razionali fino in fondo, perché basate sul rapporto virtuoso tra costi-benefici. Se i benefici sono superiori ai costi, quella decisione è razionale fino in fondo. Se non è così, è profondamente irrazionale. Quindi a questo aggiungete questa idea e questa visione che in qualche modo si possa appunto controllare fino in fondo le dinamiche. È una visione, è una sorta di paradigma, che può funzionare con un certo tipo di sistemi. È venuto fuori il tema dei sistemi complessi, anche stamattina, no? Noi dobbiamo fare una prima grande distinzione. Scusate questa breve premessa. Noi abbiamo a che fare con sistemi complicati e sistemi complessi. La differenza tra il complicato e il complesso è che il complicato appartiene a sistemi meccanici, appartiene al mondo degli oggetti. Questo cosa significa? Che noi possiamo scomporre le parti di un sistema, analizzarle e in qualche modo capire come funzionano e da questo cercare di prevedere come il sistema si comporterà. Nel caso dei sistemi, quindi c'è un problema di prevedibilità, di gestione delle conoscenze, nel caso dei sistemi complessi che riguardano l'umano, il sociale, il relazionale, noi abbiamo a che fare con sistemi complessi adattivi. Perché sono costituiti da entità, che sono le persone, non soltanto gli individui, che non sono solamente entità o atomi inattivi, passivi, ma sono entità che partecipano costantemente alla coproduzione, co-creazione dei processi, delle dinamiche. Quindi noi abbiamo a che fare con sistemi che sono costantemente in evoluzione, che sono dinamici e che non consentono condizioni di prevedibilità alcune. E questo, secondo me, è un altro dei punti su cui non si riflette mai abbastanza. Che proprio nell'epoca, e ripeto, passatemi queste formule che possono sembrare anche retoriche, ma non lo sono, proprio nell'epoca della massima disponibilità dei dati, della massima possibilità della iperconnessione e della condivisione di questi dati, noi siamo in una condizione profonda di razionalità limitata. Perché abbiamo a che fare con una complessità, che è quella sociale, che è una complessità del tutto particolare. Quali sono i rischi, dal punto di vista interpretativo? Certamente i rischi sono quelli delle spiegazioni riduzionistiche e deterministiche. Di quelle spiegazioni che provano, appunto, a ridurre ad unum la spiegazione. Sono le spiegazioni tipiche dei modelli lineari interpretativi. Sono le spiegazioni che hanno caratterizzato la scienza classica. Perché la scienza classica è eminentemente riduzionistica. A tutto questo aggiungete le caratteristiche che, scusate ma devo bere, ha il cosiddetto ecosistema globale. Siamo nell'epoca della massima iperconnessione, interconnessione. Ci sarebbe da dire qualcosa se siamo anche nell'epoca della comunicazione. Siamo in un'epoca in cui le regole della cittadinanza non sono più scritte e definite dal legislatore. Sono scritte in altri ambiti. Ebbene, proprio in questa fase storica, così delicata di cambiamento, di trasformazione, appare quanto mai evidente la sostanziale inadeguatezza della nostra scuola e della nostra università. Che sono costruite e progettate su logiche di separazione. Su quelle che ho chiamato qualche tempo fa le false dicotomie. Quali sono queste false dicotomie? Sono quelle tra la formazione umanistica e la formazione scientifica. Sono quelle tra le conoscenze e le competenze. Sono quelle che contrappongono, ad esempio, la specializzazione dei saperi alla interdisciplinarità dei saperi. Dico sempre, la specializzazione dei saperi è un qualcosa di inevitabile, perfino di fisiologico, nello sviluppo delle scienze e della conoscenza scientifica. Il problema è che noi abbiamo creato le condizioni per cui tra questi saperi non ci fosse dialogo, non si comunicasse. E allora, in un momento in cui, proprio, saltano i confini tra la natura e la cultura, da Cartesi in poi, tra il naturale e l'artificiale, in un momento in cui le separazioni e i limiti non sono più così definiti, noi ancora continuiamo a strutturare, a definire, percorsi educativi e formativi di alta formazione in cui teniamo separato l'umano dal tecnologico. Fateci caso che una delle grandi narrazioni dell'epoca contemporanea è proprio quella che vede la tecnologia come un qualcosa di separato dalla cultura. E se ci fate caso, uno dei discorsi più ricorrenti è quello che la tecnologia va a una certa velocità e la cultura non riesce a starli dietro. Ma questo è assolutamente qualcosa di più falso e fuorviante. La tecnologia e le tecnologie sono prodotti dei contesti culturali complessi. E sono quei prodotti di sintesi complessa tra il momento di innovazione, di progettazione, l'università, i saperi esperti e la loro traduzione operativa. Il mondo delle industrie e della produzione. Quindi qui c'è un primo elemento fondamentale. Noi continuiamo a perfettuare delle logiche appunto di separazione dei saperi, delle conoscenze che in qualche modo che cosa determinano? Una perenne condizione, si è parlato tanto di paura, di timore, di controllo, di ritardo culturale. Perché parliamoci chiaro, storicamente, sto andando proprio a braccio, ho saltato qualunque schema, i momenti di innovazione tecnologica storicamente sempre determinano un processo o più processi di accelerazione. Il digitale addirittura da questo punto di vista introduce anche una sorta di nuova velocità. E i momenti di accelerazione determinano a loro volta sempre un problema di controllo. Da dove arriva il controllo? Il controllo arriva dai modelli culturali. Sono i modelli culturali che ti consentono di controllare, di definire quelle accelerazioni, di saperle riconoscere. Allora noi siamo di fronte, anche da questo punto di vista, a una sorta di passaggio all'ipercomplessità. Determinato da che cosa? Tra l'altro, prima non ho finito a dirvi la differenza tra complicato e complesso. Il valore conoscitivo, e la devo dire assolutamente, il valore conoscitivo dell'approccio alla complessità, che non è la soluzione dei problemi, sta proprio nel fatto che i livelli di connessione sono quelli che mi restituiscono valore conoscitivo. Quindi non posso separare le parti per ricavarne informazioni rispetto a come prevedere, a come gestire i sistemi. Ma dicevo, passaggio alla ipercomplessità, che è determinato da una serie di fattori, ma in modo particolare da due fattori. Il primo è stato detto ampiamente, anche quando Mario Rasetti ha parlato del digitale. è la nuova velocità del digitale, è l'innovazione tecnologica, che ripeto, determina un'accelerazione. Quindi ancora una volta, problema di controllo, e alla fine il problema di controllo scava a scava è un problema di gestione e condivisione della conoscenza. Il secondo fattore determinante è il ruolo sempre più decisivo che la comunicazione ha assunto. Su questo dovrei aprire una parentesi su cosa intendiamo per comunicazione, perché spesso io ho l'impressione che si confonda la comunicazione con la connessione, la comunicazione con il marketing, la comunicazione con la propaganda, che cosa è successo? Perché possiamo parlare di ipercomplessità? Perché la nuova viralità della comunicazione, se ci riflettete, porta fuori questioni, e lo abbiamo visto anche qui oggi, che prima erano di esclusivo dominio dei saperi esperti, degli scienziati, degli addetti ai lavori, le porta fuori dalle torri d'avorio. E questa non è una questione che può essere, come dire, sottovalutata, perché mai come in questa epoca, certe questioni diventano di dominio delle opinioni pubbliche. E questo è un aspetto importante, perché significa che le dimensioni della rappresentazione e della percezione diventano centrali. Allora poi, non so se l'avvicinamento di Marco dice anche che stanno finendo i 20 minuti. Allora vorrei provare a dire come poi possiamo immaginare e provare a ripensare l'educazione e i percorsi educativi. Poi dico sempre, sono a disposizione per approfondimenti, perché è chiaro che ognuna di queste tematiche andrebbe approfondita. Dico bene che ripensare l'educazione e la formazione diventa ancora più strategico, proprio nella cosiddetta era della disintermediazione, in cui, diciamo così, certo storytelling, come si dice oggi, e certe narrazioni ci hanno indotto a pensare che si possa fare a meno delle figure di mediazione. I giornalisti, i comunicatori, in alcuni casi dagli insegnanti, gli educatori, a parte che stiamo assistendo addirittura a dei processi di reintermediazione che secondo me sono perfino più forti e impegnativi di quelli di disintermediazione, ma a mio avviso qui dobbiamo veramente mettere mano a fondo all'educazione e alla formazione. Vediamo in che modo. Beh, certamente fin dai primi anni di scuola si può insegnare il metodo scientifico, si può educare al metodo scientifico. Questo mi permette di richiamare un po' il discorso che faccio sulle false dicotomie. Generalmente si crede, è molto diffusa questa idea, soprattutto nel contesto italico, che in qualche modo il metodo scientifico caratterizzi solo le cosiddette scienze esatte, le scienze della natura. Il metodo scientifico è un qualcosa di comune anche all'area umanistico-politico-sociale. È un metodo, senza dover scomodare il buon Popper, che si basa su congetture e confutazioni. L'aspetto educativo nell'insegnare a falsificare, a dubitare, a basarsi su un'epistemologia che non è delle certezze, che non è un'epistemologia del dato, perché questa è un'altra delle confusioni e delle illusioni che stiamo vivendo. L'idea che la società dei dati sia una società dei dati di fatto. E questo, fateci caso, come lo ritrovate anche nella nostra cultura della valutazione, che è una cultura molto schiacciata sui dati, ma sui dati eminentemente qualitativi. Tutto questo ci ha fatto lasciare fuori dai luoghi e dalle istituzioni educative e formative l'umano, il relazionale, tutto ciò che è creativo, tutto ciò che è immaginazione. Pensate ad esempio all'altra falsa dicotomia che caratterizza anche i nostri percorsi educativi, quella che contrappone la razionalità all'emotività e all'emozione, spesso dimenticando, spesso dimenticando che la stessa razionalità a basi emotive. Ancora, guardate come sul piano ad esempio delle logiche e delle culture organizzative si continua a insistere sulla retorica che contino soltanto le competenze, conta soltanto il saper fare. Io vedo spesso quando faccio formazione sia nell'ambito pubblico che privato, c'è una retorica completamente schiacciata, si vogliono le soluzioni, non si vogliono le domande che sono il sale tra l'altro anche della ricerca scientifica, e tutto è schiacciato sul saper fare. Mentre qui il problema è che noi dovremmo formare sempre di più e non lo stiamo facendo e stiamo continuando ad andare in una direzione errata non solo al sapere non solo al saper fare ma proprio per quella che abbiamo definito iper complessità. Dovremmo educare al saper comunicare il sapere e al saper comunicare il saper fare se non mettiamo mano ma senza avere approcci apocalittici che non mi appartengono e ripeto non lo stiamo facendo a educazione e formazione io dico sempre tra 20 anni e 30 anni noi ci troveremo ancora qui a discutere di come l'innovazione tecnologica che ha caratteri non di inclusività ha caratteri di esclusività il rischio che noi stiamo correndo molto serio secondo me è concreto è di confrontarci con una innovazione che è un'innovazione per pochi non è un'innovazione inclusiva anche adesso quando noi parliamo di cittadinanza di cittadinanza digitale non solo per questo dicevo non può esistere alcun tipo di cittadinanza digitale se non sono garantiti i requisiti della cittadinanza ma se non prendiamo atto che le regole di ingaggio della cittadinanza nella civiltà ipertecnologica non sono più scritte dal legislatore se noi non prendiamo atto che non è il digitale o la tecnologia che garantiranno e creeranno le condizioni sociali culturali e strutturali per ricreare un legame sociale che nel frattempo si è indebolito proprio nell'epoca della massima iperconnessione prima c'era chi diceva la vergogna la vergogna noi l'abbiamo sempre intesa come un sentimento che appartiene all'individuo la vergogna è un sentimento eminentemente sociale la vergogna presuppone il noi ora questo noi si è molto 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 indebolito si è polverizzato proprio nel momento in cui ripeto c'erano le possibilità di un riavvicinamento allora tra le grandi illusioni proprio di questa civiltà ipertecnologica ci sono proprio quelle che vedono nella tecnologia nel digitale e nei dispositivi tecnologici la possibilità di offrire garanzie in termini di fiducia relazionalità protezione sicurezza prevedibilità dei comportamenti gestione di tutto ciò che è incertezza questo a mio avviso è un rischio molto serio che stiamo che stiamo correndo peraltro proprio in un momento e qui mi chiudo in un momento in cui diversi istituti di ricerca perfino la banca mondiale ci viene a dire che in termini di competenze e di conoscenze noi allo stato attuale non siamo in grado di prevedere neanche tra due anni quali saranno i profili formativi e professionali di cui abbiamo bisogno perché siamo in una fase di rapidà rapidissima obsolescenza delle conoscenze e delle competenze allora il problema qual è? il problema a mio avviso negli percorsi educativi e formativi è quello che ho chiamato il grande equivoco cioè pensare che l'educazione e la formazione per questa civiltà ipertecnologica siano un'educazione una formazione squisitamente tecnica e tecnologica mentre noi abbiamo bisogno di ben altro altrimenti continueremo a vedere ripeto ma questo comporta proprio il ripensare l'educazione all'empatia l'educazione al rapporto con il mondo degli oggetti che fino a quando vedremo la tecnologia e il digitale solo con qualcosa di esterno a noi io credo che non andremo non andremo molto lontano quindi a mio avviso la questione educativa e qui chiudo come direbbe anche il buon Morin è la sfida delle sfide perché è lì che si definiscono le condizioni anche questo è stato detto di quello che è il nuovo contratto sociale noi abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale perché questa fase di cambiamento straordinario non ha ridotto le disuguaglianze le ha rese molto più evidenti le ha rese molto più marcate e quelle che erano le istituzioni che in qualche modo dovevano accorciare queste distanze sociali e queste asimmetrie in questa fase storica in questo preciso momento storico stanno contribuendo ad alimentare queste asimmetrie mi riferisco in modo particolare alla scuola e all'università che non da oggi non sono più una volta si dicevano gli ascensori sociali quella funzione è venuta meno e quindi questo è a mio avviso un elemento di grande criticità grazie grazie a tutti grazie a tutti